Ciao ragazzi, cosa avete fatto con voi a San Valentino? Allora, cosa avete fatto a San Valentino? Come avete passato a San Valentino? Buongiorno, e lei cosa ha fatto a San Valentino? Cosa avete fatto a San Valentino? Ciao ragazzi, come avete fatto a San Valentino? Cosa avete fatto a San Valentino? Ah, mi sono alzato in e-cover? Ah, sì, sì, è vero. Avevo due tipi al fianco, boh. Ho fatto il gelato? Sì. No, io sono andato a prendere un gelato con una ragazza. E poi la fanno gelato. In realtà sono andato a prendere un gelato. Da solo, da solo, da solo. Oh, quindi, poco romantico però, vabbè, molto pragmatico, ma cosa... Però... Avevo cucinato una torta, come ho fatto? Eh, io sono uscita a pranzo col mio ragazzo, per cui io sono più presto. Eh, io sono andato a più presto. Ciao, bene, grazie. Bene. Cioè, l'anno scorso, bene, sei stata bene con il mio ragazzo. No, siamo andati al cinema insieme. Abbiamo fatto un anno e quindi mi ha portato fuori al sushi. Sono riuscito, però è stata la mia ragazza... Sì, sì, è stato un pensiero. Potete rimanerare alla mia età per cose di particolare, insomma, me ne sono astinto accordo. Abbiamo cucinato, ha fatto una bella mangiata... Bravo. È a breve? Sì, sì. Eh, sì. Allora, io vivo in Barocco, quindi... Lì è un paese musulmano, quindi non c'è... Non ci sono... Non ci sono i santi, quindi non esiste questa. Maldito alcol, dulce tormento, che tu vas afuera, ben pa' dentro. Buongiorno, lei che si fa fatto a San Valentino? Buongiorno. Sì, grazie mille per... Buongiorno. Allora, com'è? Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.